xml encoding uguale utrf 8 rimasti nei cuori dei fan di uomini e donneni con le mazzocato e fabio coloricchi o tornano a far parlare di loro.id e, qualche mese fa, dopo che è naufra gatto la loro relazione che dura vada nel 2015, hanno avuto parecchia tritt i, tanto che l'ex corteggiatricea quei relatò l'extronista, durante l isola dei famosi spagnola Fabiova rilasciato dichiarazioni relative e al rapporto intimo avuto con Nicole e tutt'altro che edificanti eran o volate parole grosse e adesso Harry va la resa dei conti.giovedì 26 dice mbre 2019, in prima serata surrealti me, andrei non da un'intervista d'op pia, in cui si vedrà con l'oricchio chiedere scusa all'ex compagno a punto Nico le è tornata sul suo cammino nel prog rama di Maria De Filippi, definendo indimenticabile e unico, dopo un percorso molto travagliato, per e tu fine è stato molto bello e concorrenti ha aggiunto che come te vogliono conquisterei il cuore del ragazzo è dal momento link we see in una guerra tutto è recito e continua dopo la foto cerca alcuni so di scomodi del suo passato, la soccato ha dichiarato il bulli contro di me un racconto dell'an che nemmeno i miei genitori e vanno arriva il capitolo fabio pura nessun tradimento da partemi a punto ci siamo trascinati nulla purtono un sereno punto eravamo divena stati completamente apatici, triste e ci siamo parlati ed è venuto fuori che semplicemente entrambi non era siamo più innamorati continua dopo o la foto l'ex corteggiatrice poia incluso o qui relato fabio pearl e dichiarazioni che ha rilasciato la partecipazione al reali ur vigor, l'isola dei famosi ver sione spagnola e un uomo non dovreb parlare così di una donna neana far con gli amici emisonosent chita veramente onigliata dopo l'in per vista dell'amazzocato è statal da di fabio ero molto presoda nicole ha dichiarato l'extronis da la conoscevo già prima del prog ram ha aggiunto l'avevo in vita da ad uscire mi aveva detto dino.q andò la vi di scendere le scale sonos tanto sorpreso e l'ho attaccata tutt' tempo perché avevo il dubbio che seri per le telecamere con tin grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti